Orrori piste ciclabili quando l'amministrazione non sa quello che fa e quando finirà questo inferno. In questa ora appare completata la realizzazione delle piste ciclabili lungo il Viale Tica, con conseguente restrizione della carreggiata e ovvio il consueto caos della circolazione. Da qualche giorno tuttavia in quello stesso viale si circola nei due sensi di marcia in maniera spedita e in credula, quasi un prodigio natalizio dovuto però ai semafori spenti e al crocevia tra Viale Zecchino e via Olivieri. Non è dato sapere per quale motivo non sia neanche in funzione, se per manutenzione o perché guasti. Da parte nostra vogliamo illuderci che qualche amministratore comunale o qualcuno dell'ufficio mobilità e traffico abbia finalmente compreso che per porre rimedio all'ineluttabile coercezione delle piste ciclabili L'unica via da percorrere per rendere meno caotico il traffico e non avvelenare la vita a chi sceglie il mezzo motorio di locomozione, il 99% dei cittadini, è quella della eliminazione dei semafori, assolutamente controproducenti anche in termini ambientali. È l'alternativa a creare un sistema di rotatori ovunque possibile, aumentando nel contempo la segnaletica verticale e orizzontale. Solo in tal modo sarà possibile ottenere minor caos, meno inquinamento da cassa di scarico, crocevia più eleganti e relativo miglioramento della qualità dell'aria e della vita di tutti noi. Un ampio lavoro quindi e soluzioni che andavano operate molto tempo prima di dar luogo, concepire e progettare piste ciclabili che mai saranno percorse, a parte noi stessi, da un numero tale di persone dal giustificarle, così come concepite con i relativi costi. Nel momento registriamo comunque un miglioramento del sistema nervoso dei tanti automobilisti che quotidianamente percorrono il Viale Tica nei due sensi di marcia. Niente niente che qualche animo sensibile dell'amministrazione o qualche tecnico comunale sia finalmente rinsavito. Grazie. Grazie.